Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere. Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io, scrive così Sonia Bruganelli a corredo di un intento. Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere. Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere. Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io, scrive così Sonia Bruganelli a corredo di un intento. Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere Nello scatto la sua primogenita, oggi 21enne, è ancora una bimba Un'immagine di tanti anni fa che però è bastata per farle tornare alla memoria un ricordo intenso Silvia ha avuto un'ipossia dopo un intervento subito quando era nata da pochissimo e ciò le ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali Una condizione di cui la produttrice e il conduttore hanno parlato spesso in diverse occasioni Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gesto i miei tre figli e quella che mi conosce di più I miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato a essere fiera di me Ha detto di lei tempo fa l'opinionista TV E anche Paolo Bonolis ha parlato della ragazza come molto sorridente, molto solare Che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l'argento nel lancio della palla E loro nei dieci e anche Paolo Bonolis Oggi Bruganelli e Bonolis si sono separati Ma l'amore per la loro famiglia è lo stesso di sempre Così come il legame che è rimasto nonostante tutto Abbiamo tre figli, ci vuole armonia Come si dice? Genitoriale Ecco, ha confidato il conduttore di recente ammettendo comunque che la decisione di mettere la parola fine a un rapporto lungo 25 anni non è partita Come si dice? Genitoriale Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più Che provi ciò che non sente più Che sia quella che non è più Per me non è stato facile Ma giusto Oltre a Silvia, Paolo e Sonia hanno avuto Davide e Adel Virginia a cui si aggiungono anche Stefano e Martina I figli che Bonolis ha avuto dall'ex moglie da Ian Zoellere che lo hanno reso nonno Come si dice?